Ciao sono Luca e in questo video vedremo come eseguire il remotore alla macchina per la schiena. Posizionati alla macchina selezionando un carico in termini di peso che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione per quanto riguarda tecnica e arco di movimento. Aggiusta la seduta in modo tale da avere le maniglie all'altezza della parte bassa del petto. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei dorsali, espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase da eseguire lentamente per la massima efficacia. Esegui il movimento in maniera lenta e controllata con buona enfasi sul tempo sotto tensione per i migliori risultati. Le scapole sono retratte con polsi avambracci in linea e i gomiti mantenuti vicino al corpo. In parte interverranno anche i bicipiti. Se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di Personal Trainer Online.